Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione per dire no ai rifiuti radioattivi in Toscana. Sogin ha infatti individuato nel territorio tra i comuni di Pienza Trequanda in provincia di Siena e Campagnatico in provincia di Grosseto, aree potenzialmente idonee ad ospitare rifiuti radioattivi italiani di media e bassa radioattività. Il documento approvato è la sintesi unitaria di quattro atti presentati da Italia Viva, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Come ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, è stato predisposto un documento unitario per dare ancora più forza al Presidente della Regione Eugenio Gianni nel momento in cui discuterà del tema col Governo. L'atto impegna la Giunta regionale a continuare ad esprimere netta contrarietà in tutti i luoghi deputati e a fornire ai comuni interessati in tutti i passaggi procedimentali, ogni supporto utile per sostenere con la massima efficacia la posizione di contrarietà all'individuazione dei siti in oggetto. Ma oggi io ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al Presidente Gianni lo strumento di parlare con il Governo e con Sogin con grande forza. E' arrivato un no, un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al Presidente Gianni per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono territori a grande capacità turistica ma anche di grande bellezza ambientale. Siamo stato il primo partito a depositare e a dire no con forza nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio Governatore Eugenio Gianni di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radiattive e nucleari. Per me personalmente una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Sì, è un segnale forte di netta contrarietà. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico-naturalistico, ambientale, quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista economico. La Val d'Orcia, il Comune di Campagnatico, Pienza, Treguanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo, hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione e anche a mettere a disposizione dei comuni, che sono piccoli comuni, tutti quei supporti di carattere tecnico-giuridico che dovessero essere necessari per meglio sostanziare questa posizione di contrarietà che, ripeto, non è una contrarietà che proviene dalla sindrome di NIMBY, ma è una contrarietà che trova motivazione nel valore di un territorio che è quello toscano che per prima, cioè la regione toscana, si è dotata di un piano paesaggistico. Quindi tutte queste motivazioni di carattere tecnico-scientifico-economico debbono prevalere e debbono scongiurare questa previsione che Sogin invece ha messo sul tappeto. Sì, avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentate anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Gianni andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Questo è un tema estremamente importante, è un tema estremamente importante perché si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto però è un tema di dimensioni nazionali e andrebbe affrontato con grande senso di responsabilità, perché oggi noi ci preoccupiamo di dover dislocare dei residui nucleari che non ci dimentichiamo già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa, dobbiamo soltanto metterli da qualche parte dove stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono uno un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana, è ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari, ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità a tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici, non basta questo. Il tema è un tema di attualità enorme, è un tema che dobbiamo affrontare, come dicevo prima, senza il filtro della demagogia, perché queste scorie se non vanno in Val d'Orcia, se non vanno a Campagnatico, e viva Dio che non vadano né in Val d'Orcia né a Campagnatico, da qualche parte devono andare e qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità di decidere dove e come dislocare queste scorie. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta KNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone, fermo restando la pericolosità. Capisco che il Governo si sia trovato a una decisione importante per evitare le infrazioni della Comunità Europea, però mi domando perché non sono state interpellate, se non lo sono state, perché ancora non lo so, le regioni e soprattutto perché fra i vari parametri analizzati per definire quei siti di stoccaggio non sono state prese anche altre considerazioni come per esempio il pregio naturalistico e paesaggistico delle zone individuate. Questa è una cosa fondamentale per quanto mi riguarda e mi fa molto piacere che tutto il Consiglio regionale all'unanimità abbia approvato una mozione che dà sostegno al Presidente Gianni nel suo diniego all'autorizzazione. In seguito alla sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione per esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e alla comunità di Viareggio e che impegna la Giunta regionale a sostenere le iniziative dell'Associazione dei familiari delle vittime, la ONLUS il mondo che vorrei, e a promuovere nei confronti del Governo e della Conferenza Stato-Regioni la richiesta di revisione dell'Istituto della Prescrizione nei procedimenti giudiziari riguardanti i reati gravi. Noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni al fine di favorire una riflessione circa l'Istituto della Prescrizione per i reati gravi, quelli colposi come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente Regione è al loro fianco. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD. Abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente nel nostro atto quindi abbiamo deciso questa volta di chiedere che in conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi, l'omicidio colposo, perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari. Però chiedere, l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni, che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportate in ogni sede. Questa è la voce che arriva da questo Consiglio regionale, anche qui in modo del tutto univoco, perché non c'è differenza di colore ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. Io sono abituato alle sentenze rispettarle e non a commentarle. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi, principalmente come istituzione, ci aspettavamo, ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia a chi ha perso la vita quella notte a Viareggio, ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confusare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione, evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci. Resta l'amarezza, resta l'amarezza in dubbia di tutti i toscani, al di là della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti, degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio. È una sentenza che lascia la mano in bocca. È stato redatto un documento che ho firmato perché lo condivido a pieno. È una sentenza vergognosa che non ci saremmo mai aspettato, soprattutto per il dolore di questi familiari che hanno visto morire per la seconda volta i propri congiunti. Ecco, io conoscevo molti di quelle persone che sono morte perché erano miei vicini di casa e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. I morti non possono andare in prescrizione e questo deve farci capire una volta per tutte che la prescrizione deve essere abolita, soprattutto nei casi in cui ci sono delle persone che muoiono. A mio avviso non dovrebbe proprio esistere mai. Dal momento che viene reso noto un reato e si inizia un procedimento dovrebbe sempre fermarsi. Però ha maggior ragione in questo caso. Credo che non ci siano veramente parole per esprimere il disappunto e la vergogna come cittadina rispetto a questa sentenza. È nata giovedì 21 gennaio la Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne, come era stato stabilito con la delibera 80 del 23 dicembre scorso. Nell'occasione è stato eletto presidente del nuovo organismo Marco Nicolai del PD. La funzione della nuova Commissione è rappresentare le istanze dei territori a tutti i livelli istituzionali, a partire dal loro ascolto. Si occuperà di aree interne per valorizzare e sostenere le zone marginali regionali, a partire dall'ascolto dei territori periferici, compito della nuova Commissione, è rappresentarne infatti le istanze e i bisogni alla Regione a tutti i livelli istituzionali. La Commissione aree interne ha prima di tutto il compito di dare voce, di dare rilievo a quei territori che vivono una situazione di marginalità, territori come mi diceva un sindaco di un comune montano appunto che si sentono tante volte dimenticati. Il senso di questa Commissione e anche la scelta che ha fatto il Consiglio regionale per la prima volta di fare una commissione apposita su questi temi è di dare a questi territori la centralità che meritano. Iniziamo oggi con questo insediamento ma il senso e il programma di lavoro di questa Commissione sarà quello di raccordare la voce dei comuni e di questi territori con l'istituzione regione e anche con il Governo nazionale perché noi abbiamo anche la programmazione avvenire dell'Unione Europea, le sfide del Recovery Fund, le sfide anche dell'appunto del nuovo bilancio comunitario in cui dovremo fare in modo che anche nel nostro territorio regionale ovviamente alle aree interne venga data la rilevanza che meritano. Sono i zone appunto che sono in tutte le province del territorio regionale, sono una sfida per tutti e il senso di questa Commissione sarà quello di creare raccordo e portare avanti idee e iniziative per dare a questi territori la dignità e il valore che meritano e mi pare anche coerente questa con tutta la campagna elettorale del Presidente Gianni. Aree interne principalmente penso alla Garfagnala, alla Lunigiana, alla zona dell'Appennino, le colline metallifere, al Casentino, quindi sono state individuate tre aree interne dal punto di vista normativo. Sono in gran parte le zone montane e comunque più periferiche della nostra regione che hanno problemi dal punto di vista della tenuta dei servizi ma soprattutto degli insediamenti produttivi. È finita nella montagna non solo in Italia ma in tutta Europa la fase dell'industrializzazione in circa negli anni 90. Questi territori sono alla ricerca di una nuova identità produttiva e in termini di servizi per me chiaramente fondamentale sarà la questione anche dell'assistenza sanitaria in queste aree e di un nuovo modello di assistenza sanitaria in questi territori. Sono contenta che sia stata istituita questa Commissione di cui si parlava da tempo. le priorità saranno azioni concrete da dover fare. La priorità intanto sarà ascoltare territori, presumo, e poi cercare di trovare proprio delle soluzioni che facciano un modo che le persone che ci sono non vadano via da questi territori e anzi che richiamino in qualche modo altre persone ad abitarci. Per tanti motivi, prima di tutto, siccome si parla tanto per la maggior parte di aree montane o premontane, il dissesto del territorio, la cura del bosco, quindi trovare delle attività che non siano industriali ovviamente che possano dare un aiuto a reddito alle persone che ci vivono. Il Consiglio regionale della Toscana ha segnato un riconoscimento ad un 25enne che vanta ben cinque lauree. Il primo gonfalone di questa legislatura è l'impegno della Toscana che vogliamo. Terra in grado di attrarre talenti dall'Italia e dal mondo. È un riconoscimento che per una volta non guarda al passato ma al futuro della nostra regione, che deve essere la terra delle opportunità, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Il ragazzo insignito del gonfalone d'argento si chiama Giulio De Angeli, classe 1995, plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anne all'Università degli Studi di Pisa, conseguiti con cento di accellode, ed ha un posto di ricercatore in neuroscienze a Cambridge che lo aspetta. Io ho sempre sognato di dedicarmi alla ricerca e per me il Sant'Anna rappresenta la culla dei medici ricercatori che era esattamente quello che volevo fare nella vita. Quindi ho sempre sognato di entrare in questo Ateneo prestigioso e poi questo sogno si è avverato. Pisa mi ha dato tantissimo e soprattutto ha impresso in me l'importanza dell'approccio multidisciplinare. Io racconto sempre il mio tutor al mio primo anno, mi diceva sempre Giulio per fare ricerca ad alto livello devi parlare la lingua non solo del medico ma anche del fisico, dell'ingegnere, del biologo. Io ho cercato di prenderlo alla lettera e sono lietissimo di essere alla fine di questo percorso perché è stato veramente fondamentale, non per fare record ma perché è così che oggi funziona la scienza. Oggi la scienza è intrinsecamente multidisciplinare e dobbiamo accettare questa sua anima multidisciplinare. Sì io adesso appunto mi dedicherò a tempo pieno finalmente alla ricerca con il mio dottorato di ricerca in neuroscienze cliniche e cercherò di applicare questo background così appunto ampio che ho ricevuto da Pisa e che sarà veramente fondamentale per affrontare questo problema estremamente complesso con quello che si dice una fresh mind, cioè cercando di partire con qualche idea originale si spera. Il problema delle neurodegenerazioni è estremamente vasto, estremamente complesso. Sono malattie che sono molto numerose, molto eterogenee, però hanno un substrato fisiopatologico, quindi un meccanismo che si somiglia molto. E il problema è che questo meccanismo è estremamente sfuggente come dimostra il fatto che il nostro paradigma, cioè l'opinione che abbiamo di questo meccanismo è cambiata numerose volte nel tempo e quindi bisogna proprio cercare di affrontarle con gli strumenti più all'avanguardia che abbiamo, che non sono mai stati applicati in passato, sono disponibili da poco, i quali però presuppongono appunto un background veramente multidisciplinare. Allora, il coronavirus sicuramente ci ha insegnato quanto fondamentale sia la ricerca a giorno d'oggi. La ricerca pura, oltre che quella applicata, perché quella applicata si poggia i propri piedi su un substrato che è dato dalla ricerca biologica pura. Nel caso delle malattie neurodegenerative è da vedere, è stato per esempio supposto che ci possa eventualmente essere una correlazione con la malattia di Parkinson per la specificità delle vie olfattive che è stata supposta nel caso del Covid, però bisognerà chiarire in futuro se questo sarà vero. Però quello che possiamo sicuramente, ecco, la lezione che possiamo trarre dall'esperienza del Covid è ancora maggior ragione rispetto a prima, quanto sia veramente importante investire nella ricerca pura. La mia giornata, me lo chiedono in molti, qual è la mia giornata tipo? E la mia giornata tipo consiste nel non avere una giornata tipo. E secondo me quella è la ricchezza e la bellezza del mestiere del ricercatore. Io sono fermamente convinto che il mestiere del ricercatore sia il più bello del mondo. Perché non ci sono due giornate uguali. Tu vivi dominato dal problema, non dall'idea di ripetere una certa giornata lavorativa tipo n volte, ma dominato dal problema. E quindi vedi tu che metodiche applicare per risolvere quel problema. E quindi diventa totalizzante, diventa veramente un'esperienza di vita totalizzante, estremamente gradevole. Perché è sempre più coinvolgente, entri in un circolo virtuoso in cui ti viene voglia di fare sempre più strategie, te ne vengono in mente nuove e vuoi tutte applicarle. E si entra in questo mondo meraviglioso in cui appunto si sta benissimo. E la cosa è difficile da comunicare. Io faccio fatica, anche quando mi chiedono, così come ho fatto, a fare questo percorso. Ma io faccio fatica a trasmettere quanto mi sono divertito in questo percorso. E probabilmente anche il fatto di avere questo menù così vasto di materie è stata una risorsa incredibile. Per il fatto che non puoi annoiarti. Capita che dopo tre mesi, quattro mesi che uno studia la stessa materia, poniamo medicina, e uno è stanco e vuole cambiare. E un conto è se uno ha solo medicina, uno non può cambiare perché davanti ha solo dell'altra medicina. Se uno ha tante materie così diverse, tutte importantissime, perché sono tutte importantissime, non si può annoiare perché dopo medicina passi a meccanica, elettronica, botanica. E quindi cambi completamente aria e entri anche qui in un circolo virtuoso incredibile in cui ti dà l'idea che preparare il calendario dei tuoi esami sia come preparare e programmare le vacanze. Perché sono tutte cose nuove che vuoi imparare e non vedi l'ora di farlo, proprio per la loro diversità. Io sono onoratissimo di essere qui e io spero che possa essere un messaggio per i giovani. Tengo a precisare questo punto. Per me il mio mito di studente, quando arrivai a Pisa, era Carlo Maria Rosati, il primo studente che fece la doppia laurea in medicina e ingegneria biomedica all'Università di Pisa e a Sant'Anna e per me lui era un mito, è stato davvero, ed è tuttora il mio mito, è un precursore, tra l'altro toscano anche lui. Per me Rosati ha rappresentato un'ispirazione formidabile. La mia massima speranza è che il mio caso e la risonanza che fortunatamente ha avuto possa fungere per altri studenti in maniera simile a quello che Rosati è stato per me, che possa ispirare tanti giovani e di nuovo non per fare il record, ma perché la multidisciplinarietà è la maniera in cui la scienza di oggi funziona e dobbiamo abbracciare questa mentalità. È l'unica strategia per poter fare passi avanti verso problemi complessi come quello delle neurodegenerazioni. Io ritengo che il problema delle neurodegenerazioni sia di importanza veramente cruciale, sia un'emergenza che magari non viene sempre, che passa un po' in secondo piano molto spesso, ma è un'emergenza enorme. La scala di questo problema è vastissima, è un problema che come ordine di grandezza è qualcosa che interesserà uno su quattro, uno su tre di noi. E i numeri sono in forte aumento, si prevede che quadruplicheranno entro il 2050 come prevalenza. Non abbiamo coscienza piena del motivo ancora per cui ci sia questo aumento, non è interamente spiegato dall'aumento dell'età media, e quindi c'è qualcosa in più oltre all'aumento dell'età media per il quale possiamo normalizzare. E dobbiamo assolutamente trovare delle risposte certe, perché al momento siamo ancora relativamente impotenti, non abbiamo ancora nessuna terapia eziologica, si dice, cioè che agisce alla causa di queste malattie. Abbiamo solo delle terapie che possono limitare l'espressione dei sintomi di queste malattie. Essendo un problema che in più è una fonte di tragedie umane, è perché io l'ho vissuto anche personalmente, mio nonno è morto di una di queste malattie, io già mi stavo dedicando a questo problema, però l'ho vissuto anche personalmente. E uno si sente profondamente impotente. E quindi bisogna investire e credere nella ricerca. Se noi possiamo beneficiare della qualità della vita che abbiamo allo stato attuale, è in larga parte grazie alla scienza e ne dobbiamo essere consapevoli. I problemi della ricerca, beh dunque, l'Italia ha sia appunto degli aspetti in cui sicuramente offre una grandissima qualità rispetto all'estero, altri dove è un po' carente. Sicuramente con l'aspetto degli investimenti è quello più critico. La peculiarità, forse se vogliamo, dell'università italiana è anche, come ben sappiamo, il fatto di essere estremamente teorica. Questo può essere una risorsa, in certe materie più teoriche, ma è sicuramente un impedimento verso altre materie più sperimentali, come quelle magari più biologiche, per esempio. Quindi sicuramente questi sono gli investimenti per le tecnologie più all'avanguardia, che però purtroppo sono anche più costose molto spesso, e investire sulla pratica, su insegnare, su mandare i giovani in laboratorio fin da subito. Io ho fatto molto volontariato nella mia esperienza, credo fortemente nel volontariato, e continuerò a farlo anche durante il mio PhD. E dico sempre ai giovani di andare in laboratorio fin da subito, anche prima dell'università, perché non ti innamorerai mai del libro di biochimica di 4.000 pagine. Ti innamorerai di una materia nel momento in cui andrai in laboratorio, vedrai che c'è vita oltre a quella materia, ed è lì che scatterà la scintilla. E ti verrà voglia di studiare il libro nei 4.000 pagine, non il contrario. Ma io sono orgoglioso che Giulio abbia accettato il nostro invito. Non è casuale la scelta. Questo è il primo gonfalone d'argento che mettiamo a disposizione e che doniamo a persone che possono rappresentare la Toscana nel mondo. È una scelta per me fortemente simbolica. È un modo per dirgli grazie, grazie di aver scelto la nostra Toscana. È un modo anche per impegnarlo a non recidere quel cordone, come dicevi prima, tra il luogo della formazione e il luogo della ricerca continua. Questa è l'idea di Toscana che noi abbiamo in mente. Una terra in grado di porsi un obiettivo ancora più grande. Noi in questi anni abbiamo lavorato per sostenere i ragazzi più giovani con un progetto chiamato Giovani Sì. Noi dobbiamo lavorare in questa legislatura per svilupparle un altro. Giovani qui. Parlava quasi come se fosse, come dire, se avesse 50 anni di esperienza, Giulio. L'avete ascoltato nelle sue parole. Parlava dei giovani quasi come se fossero un'altra categoria. Ecco, Giulio, tu sei uno di quei giovani che può insegnare a tanti tuoi coetanei un metodo che può dare una speranza rispetto ad un impegno collettivo. Ne abbiamo parlato prima. Noi vogliamo che in Toscana ci sia da una parte la capacità di attrarre i talenti, l'eccellenza e dall'altro di sostenere il diritto allo studio per tante persone che fanno più fatica e hanno più difficoltà. Giulio diceva, per me, questi anni in cui ha preso 5 lauree, tutte con 110 e lode, per lui è stata una passeggiata. Per tanti ragazzi invece è anche un percorso di fatica. Ecco, io credo che noi dobbiamo saper tenere insieme questo. Allora io con questo conferimento del gonfalone voglio dire grazie ai tanti ragazzi, alle tante ragazze che come Giulio ma anche come me hanno scelto la Toscana per venire a studiare. Un modo per non recidere quel cordone tra chi ha studiato qui e chi va a svolgere la sua attività di lavoro, di ricerca da un'altra parte. Io chiederò a Giulio, gliel'ho chiesto in privato ma voglio farlo anche pubblicamente. Come sapete ho lanciato l'idea di mettere in piedi un luogo, un pensatoio dove disegnare la fotografia della Toscana del 2050 e vorrei che Giulio coordinasse dieci ragazze e dieci ragazzi e che mettesse insieme in questo gruppo i dieci ragazzi e ragazzi per disegnare quella che sarà la Toscana del 2050. Questo può farlo anche lavorando da Cambridge, approfondendo, visto che le sue giornate, come dire, mi pare di capire che uno spazio ce l'abbia da poter dedicare anche a noi e questo è un segno di quella che è l'idea della Toscana che noi abbiamo in mente. L'idea di una terra che vuole attirare i giovani e questo palazzo deve essere sempre più un palazzo aperto alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che insieme a noi vogliono scommettere su un futuro migliore e diverso. Quindi grazie ancora Giulio, grazie delle parole che hai usato oggi, grazie degli studi che farai perché credo che un futuro migliore si può costruire solamente cercando di trovare soluzioni semplici a problemi complessi ed è quello che te in questo momento stai facendo. Grazie. 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 Grazie.